Ragazzuole e ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale! Oggi è sabato e quindi vi porto un video veramente incredibile. Peraltro sono uscita proprio qualche minuto fa dal parrucchiere e ragazzi ho fatto questo nuovo colore di capelli e questo nuovo taglio che mi fanno letteralmente impazzire. Fatemi sapere qui sotto nei commenti secondo voi se questo nuovo colore e questo nuovo taglio mi donano o meno perché voglio sapere ovviamente anche la vostra. Ovviamente ragazzi non sono qua per parlarvi dei miei capelli ma vi porto un video fuck time. E no non è quello che pensate voi brutti sporcaccioni perché io vi conosco. Il fuck time ragazzi consiste nell'andare a rispondere alle domande dei miei fans. Infatti come ben sapete se mi seguite su Instagram qualche giorno fa vi ho creato una story su IG dove avevo appunto comunicato che siete andate a registrare questo video e vi ho appunto creato un box delle domande dove mi avete riempita di domande a più non posso. E devo dire che c'erano delle domande veramente... veramente belle toste e belle pesanti eh fatemelo dire. Quindi ragazzi lo scopo di questo video fondamentalmente è che voi vi fate letteralmente i c***i miei e scoprite qualche segreto in più su di me. Quindi ragazzuoli prima di cominciare col video mi raccomando subito un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e attivate quella maledettissima campanellina che almeno vi da la notifica ogni qua volta che pubblico un video. E peraltro ragazzi notizia veramente importantissima è uscito dopo tre anni il mio merce ufficiale e siamo usciti con un drop di una t-shirt veramente bestiale. Questo che vedete qua ragazzi è il sito appunto di Fantasia Store dove vi riporta direttamente nella mia pagina con il mio merce infatti trovate il link ovviamente qui sotto in descrizione e avete tempo circa una settimana e mezzo perché appunto la maglietta attualmente è in preordine. Ciò vuol dire che non appena il preorder sarà ufficialmente terminato la mia maglietta non sarà più in vendita. Quindi se vi dovesse piacere la maglietta e volete qualcosa di mio con tanto lavoro di haters e battuto di qualità veramente incredibile vi consiglio di dare un'occhiata al sito che trovate qui sotto in descrizione e se acquistate la mia magliettina ovviamente taggatemi su Instagram. E ovviamente ragazzi importantissimo se anche voi volete partecipare a un mio prossimo video speciale non dovete fare altro che suggerirmi su Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories perché da un giorno all'altro mi andrò a comunicare che andrò a registrare un video e che quindi avrò bisogno del vostro aiuto. Ma ora abbiamo parlato fin troppo quindi è il momento di passare alle domande e al fuck time quindi io vi auguro una buona visione. Iniziamo con la prima domanda di oggi quanti fratelli hai? Allora io ragazzi ho soltanto un fratello e meno male vi dico la verità meno male che sia soltanto uno e non di più se no probabilmente sarei già impazzita. E peraltro è anche sei anni più grande di me, già sposato, già convive quindi chissà se prima o poi la vostra Martina, la vostra Croatomist non diventerà una piccola zietta. PS io spero di no perché sinceramente non voglio avere a che fare con bambini anche se io sto a Milano e lui sta in Sicilia. Vi dico la verità è la mia risposta definitiva quindi non ci voglio diventare, grazie. Hai mai fatto sesso con un uomo? Eh ovviamente, eh sì, anche perché come vi ho detto ho avuto per l'esattezza quattro relazioni tutte serie perché ho sempre cercato di avere comunque delle relazioni diciamo longeve e serie, non sono mai andata a caso. Però realmente mi sono concessa solamente a due dei quattro perché gli altri due non mi ispiravano fiducia e quindi diciamo è andata un po' la cosa un pochettino per le lunghe, è una storia un pochettino particolare dietro che da spiegare ragazzi è veramente un casino. Però sì, quindi ho avuto la relazione appunto con quattro ragazzi ma mi sono concessa soltanto a due dei quattro. Quindi ragazzi sono una persona veramente seria a livelli estremi, dopo tutto sono Martina, non mica posso essere una qualunque no? Già lo sapete, già lo sapete. Quindi spero di aver risposto anche a questa domanda correttamente, di aver levato di dubbi a molte di quelle persone che ancora hanno questi dubbi un po' particolari. Che io posso capire la curiosità però, perché la curiosità proprio su questo ambito? I don't know, vabbè, comunque spero che avete capito la mia risposta se non mi arrabbio. Passiamo alla prossima domanda. Ti sei mai lavata le parti intime con lo spazzolino da denti? Ragazzi ma perché mi avete preso? Cioè no 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 no! Chiariamo un attimo questa cosa. Cioè ma c'è veramente qualcuno che fa una roba del genere? Cioè qualcuno tipo di pervisto che vuole provare delle esperienze particolari? Perché definire lavare mi sembra un po' strano, un po' eccessivo. Ovviamente no, ma che domanda è? Cioè la risposta ragazzi è, credo sia abbastanza chiara. No, non è mai successa una cosa del genere e ovviamente non accadrà mai. A meno che domani non mi sveglio che ho qualche, non lo so, qualche problematica particolare che non riesca a riconoscere e distinguere, non lo so, una spugna da uno spazzolino. In quel caso mai dire mai. Però fino ad oggi sinceramente non è mai successo. Quindi spero che non accadrà mai. Domanda abbastanza particolare. Credo che sia una domanda molto insolita. Però vabbè, nel dubbio rispondiamo a tutto. Così sono bella tranquilla. Primo bacio, a che età? Allora, il primo bacio che ho dato e che ho ricevuto, se non sbaglio, è stato, mi sembra, o in quarta o in quinta elementare. No, forse in quarta se non anche in terza. Non mi ricordo precisamente, ma comunque tra la terza e la quinta al 100%. Con questo ragazzo che tipo, non lo so, mi faceva impazzire. Mi ricordo che eravamo a una festa di compleanno. Quelle feste che si facevano ai tempi, tipo in quelle sale enormi, con tutti gli scivoli gonfiabili, un sacco di robe con cui giocare. C'era questo scivolo dove appunto bisognava salire, poi con questa casettina e poi ti dovevi buttare. Mi ricordo che eravamo saliti entrambi, tutti e due, sia io che lui, appunto, sopra su queste scale. Siamo fermati in questa casettina piccola prima di buttarci sotto. Mi ricordo che lui ha preso e mi ha baciato subito in bocca e si è buttato giù dalla vergogna, scivolando. Io ero tipo tutta quanta, tipo, what? Che cos'è successo? Poi ho detto, cavolo, quindi ci sta. Allora adesso tocca a me. Quindi sono scesa anch'io, siamo risaliti, poi ho dato io il bacio a lui sulle labbra e poi mi sono buttato io dalla, come dire, dall'imbarazzo. Quindi è stato così, è stata un po' una cosa reciproca. Prima lui e poi io, quindi sì, così è stato, diciamo, il mio primo momento. Prossima domanda. Hai mai avuto rapporti sessuali con un tuo familiare o amica, amico? Allora ragazzi, aspetta un attimo. Nel senso, in che senso con familiari? Perché c'è veramente gente che... Sicuramente sì, probabilmente, probabilmente suppongo proprio di sì. Ovviamente, allora ragazzi, con familiari assolutamente no, ma mai successo e mai accadrà una roba del genere. Cioè, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Per me è una cosa anormale. Cioè, il solo pensiero mi viene proprio il disgusto universale. Quindi assolutamente no. Per quanto riguarda invece con amico o amico, no, non è mai successo. In realtà, anche perché io ho avuto rapporti soltanto con... appunto con comunque persone con cui effettivamente io ero fidanzata. Mai successo con un amico e mai successo con un'amica. Quindi, no, mai, mai successo, ragazzi, per nessuna motivazione al mondo. Non è un'amicizia se vai in altri campi. Almeno, questo è un mio pensiero. Ognuno la pensa come vuole. Dico, non sto dicendo che chi lo fa è sbagliato. Dico, per me questa è la mia linea di pensiero e continuerò a pensarla in questo modo. Quindi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Sono molto curiosa. Questo, diciamo, è un argomento un po' particolare. Quindi, ditemi anche la vostra qui sotto nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa mi direte. Passiamo alla prossima domanda. Hai mai fatto una cosa tre? Questa è una domanda che la ricevo anche questa tipo tutte le volte che faccio un box delle domande su Instagram e anche in questo caso questa domanda l'ho ricevuta tipo almeno 20 volte. Ovviamente non pesa soltanto una perché basta e avanza. Allora, anche qua, ragazzi, vi rispondo tranquillamente che no. Non ho mai fatto una cosa a tre. Non è mai stato, diciamo, di mio interesse e non ci ho mai minimamente nemmeno pensato. Per il semplice fatto che, come vi ho detto anche nelle appunto domande che mi avete fatto precedentemente, sempre in questo video, io ho avuto sempre ed esclusivamente rapporti con le persone che comunque conoscevo e con cui ovviamente ero fidanzata. Di conseguenza, per farvi capire che anche con due ragazzi, con due miei ex ragazzi non mi sono nemmeno concessa, vi fa capire appunto quanto io do molta importanza all'aspetto, diciamo, appunto intimo e sessuale e soprattutto quando io, diciamo, mi immergo, come dire, in un momento di amore o comunque sessuale, per me ovviamente è un momento di amore, ok? Non so se avete capito bene il concetto. Cioè per me se faccio comunque un atto di quel settore è perché io di base provo amore per quella persona. Quindi ovviamente non potrei provare amore per due persone contemporaneamente, almeno non è mai successo e sono sicura che non accadrà mai. Quindi no, non è mai successo ragazzi, non ci ho mai nemmeno pensato, ci sono state sicuramente delle, come dire, delle possibilità, questo non lo metto in dubbio, ma ovviamente ragazzi, sempre è stata la larga da queste cose perché non mi rispecchiano per come sono io caratterialmente e mentalmente. Poi ripeto anche qua, non giudico e non critico chi lo fa perché alla fine secondo me ognuno è libero di fare ciò che vuole, il corpo è vostro, la mente è vostra, potete farlo con 3, 4, 6, 8 persone insieme, non è ovviamente una cosa che mi riguarda, dico per me stessa, io ho, diciamo, dei pensieri anche qua e dei valori che per me comunque sono valori e quindi non mi vedrei minimamente a fare una cosa del genere. Quindi la risposta è assolutamente no. Prossima domanda. Sei stata davvero così male da sentire di non farcela più? Allora questa è una domanda molto importante, molto delicata, che ho già affrontato diverse volte, soprattutto in live. Vi risponderò anche qua ovviamente perché non ho problemi a parlarne, anzi magari può essere d'aiuto per chi ovviamente guarderà questo video e perché arriverà a questo punto del video. Purtroppo sì, ragazzi, è successo di essere, diciamo, sentita in un momento, in una situazione in cui pensavo davvero di non farcela. Questo è successo soprattutto durante i miei anni, forse gli anni migliori di tutti, quindi vi parlo praticamente da teenager, quindi tra i dieci anni, cioè da dieci anni ovviamente fino a vent'anni, ok? Che purtroppo sono sei degli anni delle tappe che mi sono completamente persa, completamente saltate per colpa della mia malattia. Ho sofferto di una malattia molto molto grave, una malattia cronica che ti prende tutto il colon e te lo infiamma completamente. Per farvi capire, andavo in bagno e quello che io vedevo era il bagno tutto rosso, ok? Non voglio impressionarvi. Stavo veramente male, avevo perso una cosa come tipo 20-25 kg, non riuscivo ad assimilare il cibo, stavo sempre male, continua nausea, questo perché appunto il corpo non riusciva più ad assimilare nulla e quindi ho avuto una serie di problemi. Fino a quando appunto poi non sono stata obbligata, mi sembra all'età più o meno forse di 14-15 anni, mi sono dovuto operare e mi hanno completamente asportato quasi tutto il colon, che è stato l'unico modo per tenermi in vita, perché se no non ce l'avrei fatta. È stato un intervento lungo, un intervento veramente difficile, siamo stati con la mia famiglia praticamente tutti questi anni, tra i 10 e i 20 anni, sempre in ospedale e vi parlo che in un anno io stavo in ospedale almeno 9-10 mesi, quindi vi fa capire quanto io effettivamente abbia buttato tutti gli anni migliori, gli anni dove devi passarli in modo felice, in modo spensierato, in modo con gli amici, con la tua famiglia e purtroppo sono dei momenti che io mi sono persa completamente, non per mia scelta perché purtroppo quando una cosa simile arriva, non puoi controllarla, non puoi farci niente, non sono la prima e non sono chiaramente nemmeno l'ultima. Quindi ovviamente anche dopo l'operazione ho avuto diversi problemi, mi sentivo comunque diversa dagli altri, perché avevo difficoltà, non potevo uscire di casa, sono state una serie di cose che mi hanno portato veramente a... a vederla veramente brutta e tal punto che una volta ero, diciamo, come dire, lì e lì con il pensiero da metterlo in atto, ma poi non so, mi è scaduto qualcosa che mi ha fatto fermare, mi ha fatto pensare comunque ai miei genitori, se che fici che hanno fatto per me, per cercare di farmi stare bene, per cercare di curarmi, che comunque anche loro hanno perso tanti anni in portati della loro vita, per stare comunque sempre appresso a me con l'ospedale, e io di questa cosa li ringrazierò sempre, gliene sono sempre grata, perché hanno sempre creduto in me e quindi diciamo che lo dovevo non soltanto a me, ma lo dovevo anche a loro, forse soprattutto a loro. Quindi sì ragazzi, oggi sono qua, comunque mi sono, tra virgolette, rivendicata di questo problema che ho avuto, perché comunque ormai oggi sto bene da un bel po' di anni, l'operazione andata tutto quanto bene, devo fare chiaramente attenzione a diverse cose, ma riesco a condurre una vita totalmente normale e riesco a essere felice nel fare tutto quello che io amo fare. E una delle cose che io desideravo più fare in assoluto era quello di rendere la mia passione un lavoro, che è quello che faccio ormai da sei anni, lo sapete qua sui social, e l'esserci riuscita è stato proprio come un, non lo so, rifiorire, risorgere completamente. E questo lo devo soprattutto a voi, anzi, se ne state proprio voi, che avete reso questi 6-7 anni della mia vita migliori in una maniera che voi non avete idea. Questi 7 anni per me valgono più di quei 10 anni e passa che ho perso tra sofferenza, solitudine, operazioni, ospedale e tant'altro. Quindi è un discorso particolare, mi sono prolungato un po', spero di non avervi annoiato, però insomma ci tenevo comunque a dirvi la mia, che dovete sempre credere in voi stessi, di non mollare mai, e che se volete potete ottenere tutto ciò che volete. Magari ci vuole più tempo, ci vuole fatica, bisogna fare anche dei sacrifici, ma l'importante è credere in se stessi ragazzi, perché se volete potete farcela, come ce l'ho fatta io, ce la potete fare tranquillamente anche voi. Mai mollare. Mi stavo anche emozionando con questo discorso, in realtà mi avrei emozionato, spero che non si sia notato troppo, ma è un discorso veramente molto delicato, che l'ho superato, però ancora oggi se ci penso, mi fa molto male, se penso a tutte le cose che sono successe a me e alla mia famiglia, quindi va bene così insomma, spero di aver dato una risposta idonea, e di aiutare magari qualcuno, di ispirare qualcuno comunque con la mia storia. Prossima domanda. Come hai scoperto la tua passione allo streaming e ai videogiochi? Allora, la mia passione per i videogiochi, come dico sempre, è nata proprio grazie al mio papà, che da quando io ero piccola, e anche mio fratello, c'era sempre il nostro padre, che lo ammiravamo, che stava lì, tipo nel magazzino, a sistemarsi il computer, a potenziarsi i primissimi computer che uscivano, e a comprare anche i primi videogiochi, quindi ovviamente mio padre ha portato me, mio fratello e anche mia madre, a avvicinarci appunto al mondo del computer, al mondo dei videogiochi. Quindi diciamo che è stato proprio merito di mio padre, infatti di questo lo ringrazio sempre, perché non solo ho passato dei momenti veramente indimenticabili con mio padre, ma con tutta la mia famiglia, ma ho scoperto proprio una valvola di sfogo, di svago, e un qualcosa che è diventata una mia passione da quando ero veramente piccolina, avrò avuto ragazzi penso cinque anni, e tutt'oggi continuo a coltivare questa passione, e sono riuscita anche a convertirla anche comunque in lavoro. Quindi ho letteralmente fatto una doppia vittoria, quindi sicuramente lo devo principalmente a mio padre, alla sua passione, che con i suoi modi di fare è riuscito, è riuscito diciamo a passarmi questa passione anche a me, quindi il merito è esclusivamente soltanto suo. E ogni volta che mi vedeva giocare, vedeva che appunto già da quando ero piccola ero fortissima in qualsiasi videogioco che toccavo, mi diceva sempre niente da fare, tu sei proprio la mia piccola genietta, sei troppo forte, sei troppo in gamba, hai troppo talento. Queste parole ancora oggi me le porto con me, sono quelle che mi hanno dato un'enorme energia, e un'enorme forza per fare quello che faccio oggi, quindi sì, tutto grazie a mio padre ragazzi. Oggi ragazzi avevo delle belle domande, sinceramente non me le aspettavo, abbiamo avuto delle domande un pochettino spinte, e altre invece un po' delicate, quindi devo dire che è stato un fact time un po' un ibrido, un 50 e 50. Mi è piaciuto davvero tanto, perché comunque secondo me è importante per me comunque dirvi qualcosina in più appunto su di me, ma è importante anche farvi capire di più a voi come sono fatta realmente io, perché comunque magari tramite un video, o una live su Twitch, non è che potete capire al 100% magari come sono fatta io, o magari alcune delle mie curiosità, quello che ho avuto in passato, quello che è successo, le mie idee, eccetera, eccetera. Quindi questi video qua mi piacciono molto anche per questo motivo, perché secondo me vi dà più un'idea specifica di che tipo di persona sono, quindi spero di essere riuscita comunque a darvi un'idea ben chiara, ed aver risposto soprattutto in maniera corretta. Quindi spero di avervi dato le risposte che appunto cercavate. Bene ragazzi, siamo tutti al termine di questo fantastico video e ovviamente come sempre io spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sono diciamo d'aiuto per scoprire qualcosina in più su di me. Devo dire che mi avete riempita davvero di tantissime domande e alcune erano molto molto spinte, ma da tonte sono stata io stessa a dirvi su Instagram appunto di non avere filtri, di domandarmi qualsiasi cosa che vi passava per la testa. Ovviamente ragazzi lo sapete, ogni risposta che vi ho dato è sempre e sarà sempre in modo sincero, e quindi spero ovviamente che vi sia piaciuto questo video, e se dovesse essere così mi raccomando lasciate tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale e se volete partecipare al mio prossimo video speciale, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram. Trovate ovviamente il link qui sotto in descrizione, rimanete sintonizzati perché da un giorno all'altro potete pubblicarvi delle storie su Instagram, dove appunto vi annuncio quando registrare un video molto particolare, e che quindi avrò bisogno del vostro aiuto. Ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo video, noi ragazzi chiaramente ci rivediamo in un prossimo video, dalla vostra Creatomist è tutto, bella a tutti ragazzi!